Bentornati a tutti. Oggi andremo a fare un interruttore con un transistor per accendere un led. Prima disegniamo lo schema con un keycad e poi andremo con un simulatore con tinkercad a vedere il funzionamento. Ok cominciamo a posizionare i componenti aspettiamo 3 resistenze zoomiamo un po' così si vede meglio. Facciamo tutto schermo. Abbiamo bisogno di un transistor Ok mettiamo questo tanto è uguale. Un NPN. Poi abbiamo bisogno del led. Ok giriamo. Ok. E' una fonte di alimentazione. Allora mettiamo power. Mettiamo 9 volt. e GND. Ecco qua. Ok. Manca, manca, manca il pulsante. Allora componenti. Switch. Allora vediamo se lo riusciamo a trovare. Comparatore, connettori. E' un connettore generico a 2.2. Sarebbe il pulsante giusto per fare lo schema. Ok. Allora andiamo a disegnare lo schema. Mettiamo. la resistenza. Prendiamo la resistenza. Prendiamo il led. Se lo riesco a prendere. Ok. Prendiamo il led. Meglio, non posso. Ok. Mettiamo così. Scriviamo. mettiamo questo qua, il connettore mettiamo qui, la resistenza mettiamo così, la resistenza la mettiamo qua e il gld, prendiamo i fili ok, questo è lo schema, salviamo salva, inseriamo i valori 560 ohm, 15k 4.7k ok, questo è il progetto, adesso apriamo tinkercad ecco qua e andiamo a realizzare questo qui cerco di metterlo a schermo così ok allora mettiamo per prima cosa una blackport piccola un'alimentazione, la 9V giriamo con R ok, uniamo la blackport, i fili positivo, positivo, negativo, negativo, sotto e sopra coloriamo anche i fili rosso e nero rosso, alimentazione, positiva, nero, rendizione negativa possiamo anche ok, abbiamo preparato l'alimentazione, negativo, 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 nero, ok, abbiamo preparato l'alimentazione, adesso abbiamo bisogno del transistor ok, mettiamo questo qua non va essere questo ok, troviamo questo, poi se non va ok mettiamo le resistenze mettiamo una due tre mettiamo il led mettiamo lo switch deve stare tutto allora, mettiamo lo switch qua colleghiamo mettiamo il rosso mettiamo il positivo andrata la mettiamo la resistenza giriamola la mettiamo qua ok questa resistenza è da 15k ok che va sulla base così ok abbiamo dato la resistenza da da 4 e 7 da 4 e 7 da 7k e lo mettiamo la base e il negativo ok questo ramo l'abbiamo fatto la base l'abbiamo fatto colleghiamo il led il che il colettore e mettiamo il positivo nel collettore inseriamo anche il led ah no il led già l'avevo presuta ecco qua prendiamo il lo mettiamo così no il nanodo il catodo va sul collettore quindi mettiamo un filo arancione da qui e qui ok ok e infine l'emettitore negativo mettiamo nero così 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 ok abbiamo realizzato lo schema proviamo a mandare in simulazione è acceso quindi se io premo il pulsante infatti interruttore il transistor non conduce più quindi si spegne il led funziona da interruttore proviamo a riaccendere ok funziona possiamo provare anche a misurare con un voltmetro non se lo trovo ecco qua ultimetro fa la base e l'emettitore base e l'emettitore ecco qua andiamo in simulazione meno sei volte sei volte sei volte per oggi altrimenti riesco io ho girato vediamo se da se è girato proprio scusate e dai dai che ce la faccio provate qui base qui e l'emettitore ecco qua così in simulazione acceso c'è una tensione di 700mV spendo 0 quindi quando la base arriva una tensione di 700mV tra base e infatti è la tensione di un diodo qua è come se avessimo un diodo tra base e emettitore abbiamo l'accensione del led ok aspetta che dovevo mettere un po' meglio sia lo schema sia la simulazione ok per questo è tutto alla prossima grazie 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 grazie